Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi parliamo di un sacco di novità relative a Fortnite Ovviamente ragazzi guarderemo più da vicino la nuovissima skin AIM Mi auguro ragazzi che anche voi ovviamente l'abbiate ottenuta completando le sfide di ieri Vi invito ragazzi per caso se avete qualche difficoltà ad andare a vedere il mio ultimissimo video Dove parlo appunto dei modi più veloci per ottenere la skin Oggi ragazzi parleremo anche di una curiosità incredibile come detto nel titolo Che sembrerebbe confermare il ritorno della Goal Trooper E vedremo anche, ah mamma mia, qualche curiosità sulla season numero 7 Quindi ragazzi vi ricordo sempre se vi è piaciuto, se vi stanno piacendo i miei video E se volete supportarmi un bel like e iscrivetevi al canale In tantissimi attivando anche la campanella Ma quindi ragazzi parliamo subito, la state vedendo di spalle Fra pochissimo la vedremo un pochettino meglio della nuova skin AIM Potrebbe essere ragazzi battuta di caccia, diciamo, come è stata chiamata Nel nostro, come si dice, nel nostro Fortnite La cosa particolare ragazzi che forse tutti non sanno È un robot, si vede ovviamente Ma ragazzi non sono per caso Alla laboratorio della latrina Sì ragazzi perché se non ci avete fatto caso E andiamo nella parte più alta del laboratorio Guardate un pochettino Incastrato ad un camino C'è il deltaplano, il paracadute Chiamatelo un po' come volete Della skin AIM Non sappiamo perché ci sia questo paracadute Ma se è un paracadute è anche impossibile pensare Che sia una skin che venga dallo spazio Quindi è qualcosa progettata su Fortnite Quindi dall'uomo E appunto potrebbe essere il primo prototipo Di robot intelligenti Che magari vedremo nella prossima season E non sarebbe neanche male Neanche sbagliato pensarci Come stiamo vedendo in questo momento Notiamo tranquillamente che Sulla spalla della nostra skin Così come nella bandiera Nella vela del nostro paracadute C'è lo stesso identico simbolo E io penso che sia il simbolo della terra È un cerchio È così È assolutamente il simbolo della terra Quindi molto curiosa anche questa cosa ragazzi Ma volevo guardarla un attimo insieme a voi Perché ci sono delle particolarità Davvero molto molto interessanti Relative alla skin I'm Intanto non vi ho fatto la domanda E quindi ve la faccio adesso ragazzi Ed è semplicissima L'avevamo vista solamente in fotografia Ma adesso che l'avete usata E che la state giocando Come vi sembra questa skin Continua a non piacervi Oppure vi piace Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Ragazzi che sono curioso A me personalmente Un pochettino di più mi piace Rispetto a come l'avevo vista In foto Quindi ragazzi Come possiamo vedere È un robot ovviamente Ha il logo della terra Sulla spalla Come vedete non ha La parte centrale Quindi il busto Ma ha due pistoni Ogliati Che gli permettono Di fare tutte le dune Ma i pantaloni Sono veramente Una curiosità Interessantissima A parte che non hanno Assolutamente senso Con la skin Però ragazzi Sono innanzitutto Sporchi Tipo di bianco Quello che potrebbe essere Un ghiaccio Detta proprio così Ma hanno anche un numero Il numero 30 Che potrebbe essere Non si sa bene perché Relativo alle skin Del football Perché questi sono Pantaloni da football Americano ragazzi Non sappiamo Perché li abbiano voluti fare Non sappiamo Se c'è un legame vero Tra questa skin E tra le skin Che arriveranno Tra pochissimo Proprio oggi Su Fortnite Quelle dedicate appunto Al football americano E ovviamente ragazzi Insieme alla skin Si sblocca anche Il backpack Come sapete Bellissimo Da dire Non c'è assolutamente Niente Da dirgli contro E tra l'altro Questo backpack Che è reattivo Ha Questo ologramma Sulla schiena Che Diventa Un numero Progressivo In base Ai nemici Che uccidiamo Quindi ragazzi Più ne chiliamo E più Il numero Aumenta Devo dire assolutamente Che Non ne vado proprio pazzo Io di questa skin Però non è brutta ragazzi E sono convinto Che avrà sicuramente Qualcosa A che vedere Con Il Prossimo Arrivo Della season Ma ragazzi Voglio parlarvi di qualcos'altro Davvero super Super interessante Ovvero sia La data Della Ghoul Trooper Ragazzi E' vero Perché si sta Vociferando Che potrebbe Arrivare Davvero La Ghoul Trooper Proprio come Rush Finale Su fortnite Alcuni dicono Che non è così Altri invece Dicono Che è così Sostenendo Questa tesi Che a parer mio E' molto interessante Ve la faccio vedere Ragazzi Ve la faccio vedere Nel Nello specifico Intanto questo era L'immagine Del paracadute Ma ragazzi Guardate Questa è la skin Del cavaliere rosso Per la prima volta Dopo l'uscita Nella season 2 Il cavaliere rosso Viene riproposto Nello shop Di fortnite L'8 8 Quindi L'8 agosto Ma se andiamo avanti Ragazzi Il 9 9 Viene riproposta Un'altra skin Che era Unica Che è la Power cord Quindi La skin Della tizia Rocchettara E se andiamo avanti Ancora Il 10 10 Viene pubblicata La terza skin Esclusiva Che è Lo school Trooper E' lecito Pensare Che magari L'11 11 Quindi L'11 novembre Potrebbe Essere Rilasciata La ghoul Trooper Ragazzi E' una cosa Che Sapete che Epic Games Non crede molto Al caso Diciamo che E' un po' Strana Come cosa 8 8 9 9 10 10 11 Staremo a vedere E' una teoria che ho voluto Presentarvi Perché secondo me Ha un qualcosa di interessante E di particolare Allo stesso tempo Quindi ovviamente Staremo a vedere Super like Per la ghoul trooper Se ritorna Ma ragazzi Come vi avevo anticipato Nel video di ieri Volevo riallacciarmi Al discorso Di una skin Interessantissima Recuperata Nei file di gioco Ancora Non rilasciata Ufficialmente Che potrebbe Darci Qualche indicazione In più Su quello che ci aspetteremo Nella season 7 Lo spray ragazzi Che vi voglio Far vedere Eccolo qua E' lo spray Del oni Che cos'è Un oni Un oni ragazzi E' una creatura Partorita Nel giappone E che Ma migliaia di anni fa E che Come Inizio Era una creatura Buona Che serviva Per scacciare I demoni Il malaugurio Le malattie Ok Con il tempo Però ragazzi Gli oni Rimanendo in contatto Appunto Con queste Tragedie Si sono Trasformati Nel corso Degli anni In creature Cattive E quindi Sono state Associate Nel folklore Popolare A Alla malvagità Quindi ragazzi Quello che vi voglio Dire E che insieme A questo spray Che c'è Nel pass battaglia Dall'inizio E' stata recuperata Anche Questa Skin Un oni Ragazzi Easy Meraviglioso Da vedere Se devo essere sincero E' davvero bellissimo Da vedere E potrebbe Essere La nuova Calamità Di fortnite Potrebbe Essere Secondo me Sarà Perché è una skin Che esiste Nei file di gioco E che potete cercare Magari la trovate Anche Cercando su google Oni Fortnite Roba del genere Insomma ragazzi Ci sono Tantissimi Presupposti Per Prevedere Una nuova Minaccia Che incomberà Sul nostro Fortnite Più Andremo avanti Voglio sapere Ragazzi Voi cosa ne pensate Anche Di questa skin Oni Ditemi un pochettino Magari siete anche Più acculturati Di me Riguardo a questa Mitologia Del folklore Giapponese O cinese Non lo so Uno dei due E potrete Darmi Delle informazioni Extra Proprio qui sotto Io ragazzi Per adesso Vi ringrazio Tantissimo Per avere guardato Questo video Mi raccomando Un bel pollicione In su Se ancora Non lo avete fatto Attivate la campanella E iscrivetevi In tantissimi Al canale Siamo quasi A centomila Noi Ci vediamo presto Ciao 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 Grazie a tutti